Sì, tanto vorrei ricordare che noi ben prima anche del referendum avevamo diciamo depositato mozioni sia alla Camera e al Senato per affrontare diciamo questi nodi. Abbiamo chiesto ieri ufficialmente che venga Renzi in in aula al Senato a riferire e questo tra l'altro è diventato un po' la richiesta di tutte quante le opposizioni perché crediamo diciamo che sia assolutamente necessario che il governo, il primo ministro in prima persona venga non solo a riferire ma a illustrare la posizione italiana per un motivo molto semplice che noi riteniamo e lo riteniamo anche mettendolo nero su bianco su questa con questa mozione che l'Italia diciamo può cogliere l'occasione anche del voto del referendum greco proprio per fare provare diciamo a cambiare davvero diciamo l'agenda europea a cercare diciamo di trovare diceva oggi Fitussi finalmente a parlare diciamo di politica e non e non di economia e tra l'altro i punti così precisi delle emozioni sono guardate non è un atteggiamento di fratellanza diciamo verso la Grecia riguardano esattamente anche gli interessi nazionali cioè gli interessi di questo paese questo riguarda per la riguarda la proposta di rinegoziazione come riguarda la proposta della conferenza sul debito che e da cui diciamo il l'Italia in prima persona non solo anche la Francia gli altri avrebbero diciamo tutto quanto il il vantaggio